Gli spazi abitativi emanano una propria cifra distintiva, una loro anima che rispecchia coloro che la abitano. Percepire questa essenza e trasformarla in qualcosa di unico e funzionale è il compito del designer di interni. In questo corso imparerai a sviluppare la creatività e la sensibilità necessarie per individuare il tuo stile unico nella progettazione di uno spazio. Sono Giussi Bellapadrona, architetto e coordinatore del corso di design degli interni 1. Sono cofondatrice dello studio Mira Architettura e lavoro in diversi ambiti, dalla scala architettonica di edifici e spazi pubblici alla scala dell'architettura di interni con committenza pubblica e privata. In questo corso ti insegnerò come trasformare le esigenze dei clienti in progetti domestici fatti su misura. Il programma si articola in quattro moduli, ciascuno costituito da un mix equilibrato di teoria e pratica. Nel modulo di progettazione di interni ci concentreremo sul concept creativo, l'organizzazione dello spazio, la distribuzione degli ambienti e le loro funzioni. Il secondo modulo è dedicato al disegno. Farai pratica con la rappresentazione dell'idea progettuale affinando le tecniche di disegno con l'uso di matite e colori. Questo lavoro prosegue nel terzo modulo di rappresentazione grafica, dove la matita verrà sostituita dai software digitali andando a lavorare in 2D. Nel quarto modulo di modellistica sarai già in grado di lavorare al tuo modello con materiali semplici ed economici. È un corso molto pratico, non ci si stanca mai, ma la progressione delle materie ti permetterà di avanzare con semplicità step by step. Se anche tu ami allestire spazi, scegliere colori e materiali e ami disegnare ma non hai esperienza in questo ambito, questo corso ti introdurrà alla scoperta delle basi del design degli interni. Un ambito unico e stimolante, fatto non di spazi da riempire ma da progettare intorno alle persone. Grazie a tutti!